Sindaco e Presidente dell'Unione dei Comuni Massimo Vagnoni alla Val Vibrata, insomma si mette il vestito della festa. Sotto questo punto di vista con la presentazione della candidatura di Comunità Europea dello Sport per il 2026, insomma si chiudono due giornate nelle quali la candidatura è stata oggetto di analisi da parte della Commissione Tecnica. Sì, un'opportunità unica per la nostra comunità che tutti i sindaci che ringrazio hanno raccolto con entusiasmo mai da diversi mesi. Dicevo, un'opportunità per il nostro territorio perché ci consentirà di poter lavorare nel momento in cui otterremo, come ci auguriamo, questa candidatura. Di poter lavorare veramente tutti quanti insieme per mettere in campo una serie di iniziative che possano in qualche maniera aiutare un po' le persone ad avvicinarsi al mondo dello sport. Ci aiuteranno a migliorare, a migliorare l'impiantistica sportiva, a migliorare l'offerta anche dal punto di vista turistico e soprattutto ad utilizzare lo sport come strumento di condivisione, di unione, di inclusione. E quindi si tratta veramente di una bellissima possibilità per tutto il territorio. La Vibrata ha bisogno di momenti in cui poter ragionare insieme, lo facciamo su tanti ambiti, dobbiamo farlo secondo me ancora meglio. Questa iniziativa veramente potrà essere un nuvolano veramente per tutti quanti i comuni. Si parlava ovviamente di inclusione sociale, inclusione sportiva, ma anche inclusione di un territorio. C'è un territorio che parla una stessa lingua in questo percorso, sia per quanto riguarda il dossier presentato, ma anche per quanto riguarda la fase operativa di questi giorni. Sì, abbiamo messo insieme anche nella scena di presentazione istituzioni, rappresentanti politici di diverse ideologie, e anche politiche. Quindi questo è un segno evidente di quanto su certi temi ci si unisca e diamo veramente, così facendo, una bella immagina. Poter vedere insieme rappresentanti dei comuni, della regione, della provincia, istituzioni, la Camera di Commercio, la Fondazione Tercas, ma anche imprenditori. Ecco, il settore imprenditoriale che è un settore importantissimo, che però non si limita soltanto a produrre, ma capisce bene che è importante anche essere vicino al mondo dello sport, e alle istituzioni su iniziative del genere. Quindi io penso che insieme a loro, insieme alle associazioni sportive e al mondo dello sport, potremmo mettere in campo delle azioni mirate che possano veramente aiutarci a tutti. Spero e mi auguro che questa venga vista come un'opportunità per tutti e su questo lavoriamo.